Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo alla tragica vicenda che ha interessato una famiglia di Gela, una ragazza di 21 anni ha perso il bimbo che portava in grembo era andata in ospedale per delle ecografie già programmate quando ha saputo della sconvolgente notizia, scene strazianti nel presidio ospedaliero e attimi di tensione sono state avviate indagini a tutto campo per capire cosa è realmente accaduto, i familiari della gestante pretendono giustizia Vogliono, pretendono giustizia i familiari della ragazza giorese di 21 anni che ieri in ospedale doveva portato in grembo per 9 mesi e 5 giorni il suo bimbo ha saputo che il figlio tanto desiderato era morto, cosa è accaduto saranno le indagini estese a 360 gradi a dirlo la donna ieri mattina si era recata nel presidio ospedaliero Vittorio Emanuele per delle ecografie già programmate da tempo ed indispensabili al fine di monitorare le condizioni di salute del nascituro e della madre ed è stato in quel momento che la 21enne è stata destinataria della tragica notizia il cuore del bimbo non pulsava più ci sono stati momenti di altissima tensione tra i familiari e i sanitari tra urla di disperazione per quanto avvenuto sul posto è stato sollecitato anche l'intervento delle forze dell'ordine sono giunti i carabinieri e polizia per riportare la calma al terzo piano dell'ospedale dove insistono la divisione di ostetricia e ginecologia chiediamo giustizia hanno detto i familiari bisogna sapere se sono stati commessi degli errori il bimbo avrebbe dovuto chiamarsi Loris un bimbo che non ha mai visto la luce un figlio tanto desiderato che muore ancora prima di nascere è una cosa inimmaginabile che purtroppo accade non escluso che il corpo del piccolo possa essere sottoposto ad un esame autoptico dovrà deciderlo la magistratura una delle ipotesi è che il bimbo possa essere stato soffocato dal cordone ombelicale della madre un'indagine interna al presidio ospedaliero di Via Palazzi è stata avviata dal direttore Luciano Fiorella si vuole ricostruire l'esatta dinamica dei fatti cambiamo argomento l'amministrazione comunale di Gela nell'ambito delle attività connesse alla redazione del piano regolatore generale e dei relativi allegati intende istituire un elenco ristretto di candidati esperti per la costituzione dell'ufficio di piano cui competono quattro ambiti interdisciplinari si tratta della catalogazione del centro storico della conoscenza e gestione del patrimonio immobiliare della gestione informatizzata delle informazioni territoriali e dell'ufficio di piano entro il prossimo 7 ottobre la procedura di iscrizione alla shortlist potrà essere avviata su richiesta degli interessati che attraverso autocertificazione sotto la propria responsabilità indicheranno le proprie specifiche professionalità e competenze modalità di iscrizione, modello dell'istanza, condizioni contrattuali e altri dettagli sono consultabili dall'avviso pubblico inserito anche sul sito internet del comune di Gela e adesso parliamo della decima edizione del Festival del Golfo appuntamento previsto per domani alle 22 accanto alla Chiesa Madre di Gela diretta televisiva sui nostri teleschermi oggi conosciamo uno dei due presentatori si tratta di Emanuele Ruvio Emanuele Ruvio, bentornato a Gela, anzi tu da Gela non ti sei mai mosso? ma diciamo ci sono nato, è la mia città quindi uno che nasce in un posto non si muove mai in un modo o in un altro sempre ci ritorna insomma e come è nata l'idea di coinvolgerti in questo progetto in merito al Festival del Golfo? ma questo è stato diciamo Gaetano Lorefici e Daniela Venosta che mi hanno diciamo solleticato in questo senso siccome a me lo spettacolo in genere piace io facevo il musicista, suonavo con i topolini insomma abbiamo avuto le esperienze in Radio Gela eccetera quindi diciamo lo spettacolo è l'altra anima della mia personalità oltre al lavoro che ho fatto sempre per 40 anni come dirigente farmaceutico di un importante multinazionale però lo spettacolo non l'ho mai abbandonato e nemmeno Gela è un appuntamento oramai consolidato il Festival del Golfo cosa possiamo anticipare in merito a quello che accadrà domani? beh diciamo che l'anticipazione che posso fare è che il Festival della Musica ci saranno tante belle canzoni e soprattutto la cosa che mi ha appassionato la bellezza delle voci dei ragazzi che parteciperanno alla decima edizione del Festival del Golfo che veramente non sono secondi a nessuno e domani avrai una compagna avrò una bellissima compagna con su Erali Shantra che abbiamo avuto modo di provare insomma che veramente non c'era migliore scelta per una compagna che ci potevamo affiancare l'un l'altro ma cosa ti dicevano prima che tu tornassi a Gela del Festival del Golfo? ma io l'ho visto casualmente ho partecipato sono stato anche invitato da Daniela l'anno scorso ho anche assegnato un premio io ho un'attività a Cosenza e un partner anche a Gela il Castor One e mi è piaciuta particolarmente una canzone di un ragazzo e ho espresso il piacere di volerlo premiare con un iPad e Daniela questo me l'ha permesso e quindi la ringrazio e da lì è nato un po' diciamo l'appeal la voglia di esserci e per domani possiamo anticipare qualcosa? beh ci sarà una grande orchestra ricordiamo l'appuntamento ore 22 ore 22 mercoledì 7 settembre la vigilia della Madonna dell'Alemanna possiamo dire in bocca al lupo va bene? ma in bocca al lupo salviamo il lupo va salviamolo il lupo salviamo i cani salviamo gli animali salviamo i lupi insomma continuano le iniziative in merito ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima d'Alemanna patrona di Gela ogni giorno alle 6.30 fino a domani si terranno le preghiere del Rosario e della Novena della Madonna alle 7 la celebrazione eucaristica con Omelia alle 18.30 il Rosario con Roncina di Maria Santissima d'Alemanna oggi alle 21 celebrazione alla Santa Madre di Dio domani alla stessa ora lucernario e solenni vespri della Madonna dell'Alemanna e giovedì 8 settembre Gela festeggerà la Madonna dell'Alemanna a ricordo del rinnovamento della Sacra Icola Gela si stringe attorno alle popolazioni del centro Italia sconvolte dal violento sisma del 24 agosto scorso sono tante le iniziative promosse al fine di raccogliere fondi da destinare a chi in un attimo ha perduto tutto oggi dalle 16 in via Pisa nell'ambito dello Sperone Arte ci saranno le socie della Soroptimist venderanno degli oggetti e l'ha ricavato come dicevamo sarà destinato ai terremotati è un'iniziativa che rientra in un'iniziativa nazionale perché la raccolta, cioè quello che raccoglieremo sarà poi, rientrerà nel circuito del Soroptimist International d'Italia noi venderemo dei prodotti che sono di vario genere dagli oggetti per la casa, oggetti personali, bisiotteria tutto quello che abbiamo potuto noi raccogliere noi stesse soge del club e qualche donazione è stata anche fatta il comune di Gela ha subito sposato il progetto i cittadini gelesi e i club service non si tirano mai indietro di fronte a dei momenti così importanti di necessaria solidarietà tra i cittadini italiani e non solo questa è la dimostrazione quindi invitiamo i cittadini gelesi a partecipare numerosi a donare più che possono seppur nelle ristrettezze nelle quali ci troviamo perché la generosità, anche l'euro dato in beneficenza in questo caso non può che aiutare i nostri fratelli delle zone colpite dal terremoto Ricordiamo l'appuntamento oggi dalle 16 Oggi dalle 16, Sperone Art via Pisa quindi nell'ambito di una bellissima manifestazione della lunghissima estate gelese E il Partito Democratico di Gela aderisce alla raccolta fondi per le popolazioni del centro d'Italia colpite dal terremoto chi volesse donare beni di prima necessità potrà farlo recandosi nella sede del circolo del PD in Piazza Martiri della Libertà oggi e domani dalle 17 alle 20 Ricordiamo che è possibile donare acqua, cibi scatola pannolini, latte in polvere, succhi di frutta omogenizzati, prodotti per l'igiene intima medicinali da banco, spazzolini, dentifricio, torce, pile e batterie elettriche, tutto nuovo e imballato Per qualsiasi informazione è possibile inviare un messaggio alla pagina Facebook del Partito Democratico Gela o contattare il numero telefonico 345-84-88-681 Lo ripetiamo 345-84-88-681 Inizierà lunedì 12 settembre prossimo all'anno scolastico all'Istituto Comprensivo San Francesco di Gela diretto da Giovanna Palazzolo sia nel Plesso San Francesco di Piazza Salandra che in quello della Giudici in Vieniscemi il calendario è il seguente Scuola dell'infanzia, bambini in entrata dalle 8.30 alle 10.30 dalle 10.30 alle 12.30 tutti i bambini Scuola primaria e classi prima media dalle 8.30 alle 10.30 e classi seconda e terza dalle 10.30 alle 12.30 Da martedì 13 a verdì 16 settembre gli alunni della Scuola dell'infanzia di entrambi i Plessi entreranno a Scaglioni secondo il calendario che sarà comunicato alle famiglie Sempre da martedì 13 a venerdì 16 per gli alunni della Scuola Primaria del Plesso San Francesco le lezioni si terranno dalle 8.30 alle 10.30 mentre per gli alunni del Plesso Paolo Emiliani Giudici le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 Martedì 13 settembre gli alunni delle classi della Scuola Primaria e gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado di entrambi i Plessi parteciperanno alla festa dell'accoglienza secondo il seguente calendario San Francesco Scuola Primaria e classi prima e scuola media dalle 8.30 alle 10.30 e Paolo Emiliani Giudici Scuola Primaria e classi prima scuola media dalle 10.30 alle 12.30 per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado le lezioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 dal 14 al 17 settembre le lezioni per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado prime, seconde e terze le lezioni si terranno dalle 8.30 alle 12.30 fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi, martedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali quotidiane riviste libri e quaderni privati da altri materiali fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone cartoni per pizza solo se puliti contenitori in tetrapack vuoti privati dei tappi lavati e scolati scatole per alimenti e nonna buste, sacchetti zucchero e farina scioper in carta tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire? avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto ed eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo riferendovi del primo palio dell'Alemanna che si è svolto a Gela successo di pubblico e di partecipanti un'iniziativa sicuramente da ripetere uno straordinario successo di pubblico e di partecipanti il centro storico di Gela domenica scorsa ha fatto un salto indietro nei secoli con il palio dell'Alemanna esperimento perfettamente riuscito e da riproporre l'iniziativa è stata fortemente voluta dal gruppo archeologico Gheloi cantiere Gela casa del volontariato e da numerosi partners tra cui club service associazioni l'amministrazione comunale ha sposato il progetto un centro storico come dicevamo trasformato in una corte medievale erano presenti giocolieri arcieri frassuoni di tamburi e trombe l'obiettivo raggiunto era quello di valorizzare la conoscenza di una fase storica forse fin troppo bistrattata quella medievale la quale risulta essere invece ricca di eventi importanti che vedono Gela diretta protagonista l'iniziativa è stata un importante attrattore turistico erano in tanti infatti coloro i quali sono giunti dalle città vicini ore una manifestazione rievocativa con costumi d'epoca ricostruzioni storiche c'erano anche degli spazi dove poter degustare i prodotti tipici del territorio giochi e scenografie hanno fatto da contorno in un'atmosfera suggestiva che ha visto protagonista il centro storico murato ed ancora dame e cavalieri che hanno sfilato con i loro abiti d'epoca lungo il corso Vittorio Emanuele figuranti e tantissimi gruppi storici provenienti da tutta la Sicilia c'erano anche i tamburisti di Buccheri la scuola di falconeria dell'Accademia Siciliana Federico II di Svevia e la compagnia degli arcieri di Enna e c'era tanta gente il centro storico è diventato un vero e proprio palcoscenico con il coinvolgimento del pubblico il palio dell'Aleman ha aperto i festeggiamenti in onore della patrona complimenti agli organizzatori progetto da riproporre masterclass di danza classica moderna e contemporanea al teatro Eschilo con Alessandra Celentano insegnante di danza classica e Cristiano Lopresti danzatore della scuola di amici appuntamento venerdì 9 e sabato 10 settembre per informazioni recarsi al botteghino del teatro dalle 18.30 alle 20.30 oppure contattare i seguenti numeri telefonici 345-5880-580 ripetiamo 345-5880-580 o 33156-23129 33156-23129 E' una tra le professioni più prestigiose passata attraverso penne e calamaio macchina da scrivere per approdare ai moderni computer quella del notaio il lavoro sognato da molti studenti fu Jacopo da Alentini il cosiddetto notaro per eccellenza e proprio al magnifico poeta siciliano consigliere di Federico II è intitolato il premio istituito nel 2009 dalle comitato regionale notarile della Sicilia un riconoscimento a chi si è distinto in campo giuridico economico sociale e politico conferito tra gli altri al giurista Antonio Palazzo al ministro Angelino Alfano e anche a Marina Calderone presidente del comitato unitario delle professioni quest'anno il premio è stato consegnato al notaio nisseno Giuseppe Pilato che oltre a svolgere la professione dal 1973 è presidente del consiglio notarile riunito di Caltanissette e Gela ed è stato presidente del comitato regionale notarile per due mandati consecutivi dal 2008 al 2014 sono particolarmente orgoglioso e contento di aver ricevuto questo premio anche perché io rappresento un piccolo distretto notarile e avere avuto una gratifica di carattere nazionale dal comitato regionale della Sicilia mi riempie di soddisfazione soprattutto in nome di tutti i colleghi del mio distretto che da sempre hanno collaborato con me oltre all'attività tradizionale dei notai importanti iniziative e novità in campo sociale delle novità sostanziali che si concreteranno in una intensificazione del rapporto di consulenza svolta e offerta in maniera assolutamente gratuita alla popolazione su diversi temi i temi tradizionali che sono quelli dei rapporti con le banche delle compravendite della contrazione dei mutui delle problematiche successorie ma soprattutto in considerazione delle novità legislative in tema di convivenze civili e di unione di fatto noi ci riserviamo proprio nei prossimi giorni di stilare un programma di attività formativa per gli studenti delle scuole superiori ma voglio rivolgere un invito alla popolazione di rivolgersi tranquillamente ai nostri studi non solo al mio ma anche a quello dei miei colleghi perché siamo assolutamente disponibili in maniera totalmente gratuita a fornire tutte le consulenze le informazioni che loro riterranno di avere in questa materia giornata della solidarietà domenica 11 settembre alle 10.30 in piazza Umberto I a Gela l'iniziativa giunta all'undicesima edizione promossa dal Veterano Motor Club in collaborazione con la sottosezione dell'Unitalsi continua nel quartiere residenziale di Machitella la rassegna dell'Edes Tramp promossa dal direttore artistico Francesco Castellana con Anna Salsetta alla produzione esecutiva e con Francesco Trenito alla produzione tecnica domani alle 22 si esibirà Glenda Scolaro accompagnata da Marco Grillo abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a Grazie a tutti.